Potrebbe allargarsi l'inchiesta sulla truffa del vino nell'oltrepò pavese che ha portato all'arresto di 5 persone. Il nostro viaggio tra le cantine della zona con l'inviata Stefania Zane. Noi personalmente non pensavamo mai che sarebbero arrivati a questo punto. Al di là del ponte della Becca, nell'oltrepò di Giampaolo Panza e Gianni Berera, c'è gente che il vino lo fa da sempre. Francesco Maggi lo ha imparato da suo padre. A Carneto Pavese non si parla che dello scandalo della cantina sociale dove si trasformava, secondo gli inquirenti, l'acqua in vino. 5 le persone arrestate, 2 con obbligo di firma, 36 le aziende perquisite. Qui dentro, con zucchero, aromi e rimasugli di vini vari, si poteva fare un buttafuoco in 20 giorni. Mi sono arrivati gli aromi, guarda che belli. Mandola dolce, moscato, asti, prosecco. Ma come può essere che un buttafuoco fatto in 20 giorni, dello stesso sapore, di un buttafuoco vero? I miracoli sicuramente la chimica non può farli. In quanti anni si può fare invece un buttafuoco? Ma questo qui è un 2015 per esempio, stavamo vendendo un 2015. E poi c'è un paio di vaschette da 54 che non so cosa sono. Tutta roba vecchia. Tutta roba vecchia la sto buttando dentro. Adesso questo vino dov'è? Il vino è stato distribuito in tutta Italia e anche all'estero. Questo vino fa male o no? No, il vino non fa male. Non fa male alla salute. Ma non corrisponde all'etichetta. Ma l'inchiesta è un terremoto per tutto il territorio, travolto nel 2014 da un'altra indagine simile, a Broni, con il sequestro di 700.000 bottiglie che non rispettavano i canoni DOC e IGP. Quando succedono questi episodi succede un po' come quando scopi una bomba, il silenzio. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dire noi siamo per un vino diverso.